Oggi con chi siamo? Che abbiamo invitato al podcast. Oggi siamo con Francesca. Esatto. 25 anni e studio l'ultimo anno di ingegneria matematica al Politecnico, però, però, c'è un grosso però, il mio percorso non è iniziato al Politecnico, ma a Medicina Unito. Quindi alla fine siamo anche un po' colleghi. Nel senso che sono parte di una grande famiglia Unito. Tra l'altro, domanda così estemporanea, meglio Unito o meglio Polito? Eh, ma sì, cioè qua si può dire tutto. Tutto quello che vuoi. Politically correct non esiste. No, no, non esiste, non esiste. Eh, Polito. Come mai? No, vabbè, non lo so, cioè, ma tu dici come organizzazione, dipende da... Eh, no, ormai hai deciso, ormai l'hai detta. L'ho buttata. Non lo so, mi piace di più l'ambiente. Ok. Questo è particolare. Io ho fatto un anno di Politecnico, poi ho switchato anch'io. E quello che ho trovato al Politecnico rispetto a Unito, poi ovviamente dipende dalle esperienze personali, però a livello di organizzazione non c'è che dire, Politecnico... Certo. Imbattibile. Sì, sì, è proprio una cosa che ti fa già abituare anche alla forma mentis che devi avere. Vero. Quindi, ordinata, tutto quanto che si incastra alla perfezione... Che funziona. Funziona. Incredibile, funziona. Ed è anche relativamente semplice, perché tu apri il calendario e hai già tutte quante le lezioni preesistenti, già fatte. No, per quello non si può dire niente, soprattutto rispetto a Unito che... Segreteria è un po' così. Quelle cose lì. Però perché come ambiente ti è piaciuto di più il Politecnico? Come ambiente... Ma allora, secondo me dipende anche... Non so voi dove andate. Voi siete a Palazzo Nuovo? Sì, sì, siamo qua. Lì non so come sia l'ambiente, però quando ho iniziato Medicina, in pratica c'erano... Adesso forse hanno fatto un palazzo dove hanno messo Medicina, non lo so. Sì. Una roba del genere. Un ex palazzo Rai, qualcosa così. Ah, allora non sapevo. Vabbè, comunque hanno fatto un posto dedicato dove tutti gli anni, credo, abbiano... Cioè, siano insieme sostanzialmente, quindi le persone si vedono, si incontrano. Invece quando l'ho fatta io, c'erano aule sparse un po' in tutta San Salvario. Adesso non mi ricordo più benissimo i luoghi, però... Torni in esposizione. Biennizia. Esatto, sì, quelle robe lì. Anche un po' a biotecnologie. Però comunque l'idea che mi dava è che fossimo molto isolati. Cioè c'era la nostra mega aula con tutte le nostre persone nel nostro corso, ma tutti gli altri... Un'isola. Esatto, un'isola così. Felice o no? Un'isola felice o... Eh, non lo so. Cioè, per me non tanto. Ok, poi lo raccontiamo. E invece al Politecnico subito quando tu arrivi, cioè, vieni invaso da una marea di gente che va, che viene... Cioè già solo quello ti dà... Non lo so. Poi ovviamente io sono di parte, nel senso che per la mia esperienza. Però vedi tante persone che... Non lo so. Cioè, nell'area secondo me c'è un po'... Non so come spiegarlo. Comunque è un'idea che la gente abbia voglia di fare, molto tecnologico, proiettato al futuro. E poi ci sono tanti studenti internazionali comunque, quindi hai tante opportunità. Ma poi, per esempio, anche già solo nella mail, nelle mail che ti arrivano, ci sono tutti gruppi studenteschi che fanno cose, oppure ci sono eventi. Una cosa che a medicina non c'era, per esempio. Cioè sì, c'erano alcuni gruppi, però non a questo livello. Poi vabbè, quello non è che è la parte fondamentale dell'università. Però se devo dire così a primo impatto, quello sicuramente cambia tantissimo. Ma tu hai detto per caso Sandro? No, non ho detto Sandro. E io ho detto sigla, sigla! Tu hai una storia da raccontare molto interessante, probabilmente anche per le persone, spero, che ci stanno ascoltando. Perché molti di quelli che ci seguono in realtà sono indecisi come noi. Sì, poverini anche loro. Però siamo qua per dare un pizzico di rispetto alla cultura degli indecisi. Ma soprattutto perché, come ci hai accennato prima, tu hai fatto un percorso di due anni a medicina. Adesso vorrei un attimo ritornare a quel periodo e capire quali sono state le tue sensazioni dopo aver passato il test. E soprattutto perché hai deciso di fare il test di medicina. Tu sei pazza. Eh sì, lo so. Comunque, non lo so sinceramente quando... Non posso dire da fin da bambina volevo fare... No, però in un certo periodo della vita, forse alle medie, così. Abbiamo studiato anatomia, delle piccole cose ovviamente, e boh, mi era interessato, mi era un po' intrippata. E allora ho detto sì, ma voglio fare il medico, dai, ci sta. E allora poi quest'idea è andata avanti e poi è stata, secondo me, una cosa anche negativa. Perché se tu parti con un'idea fissa e poi dopo non sei disposto a vederti anche un po', guardarti anche un po' intorno, poi rimani su quella e per me è stato limitante. E infatti poi sono arrivata in quinta liceo dove hanno fatto anche degli incontri di orientamento, però per esempio a quello del Politecnico io ho detto no, non ci vado, cioè non mi interessa, voglio fare medicina. Conventissima, c'erano persone che non sapevano cosa fare di base. E in realtà secondo me questa cosa è stra positiva, perché sei comunque ancora aperto a tutte le possibilità. Invece io no, dritta con un mulo, voglio fare medicina. E poi vado a fare il test e va bene, però nel frattempo in realtà il test al Politecnico l'avevo anche fatto, perché ho detto metti caso che non entro a medicina, comunque qualcosa dovrò ben fare per un anno. E niente, quindi l'ho fatto e l'ho passato anche quello, però quindi in realtà mi ero iscritta anche al Politecnico, perché nel frattempo dovevo aspettare i risultati di medicina, ma se non mi iscrivevo poi mi scadeva l'iscrizione al Politecnico e restavo a non fare niente. Esatto, quindi mi iscrivo, poi arriva la soluzione che alla fine l'avevo passato anche medicina e tipo ero contenta. Un po' lì ha iniziato però anche a dire no, ma aspetta, però anche il Politecnico non era, perché avevo tanti amici che andavano al Politecnico, non era male, però ho detto no, senti ho passato il test, cioè ormai siamo qua, sfruttiamo questa occasione. E così ho fatto e quindi poi mi sono disiscritta al Politecnico e ho iniziato medicina. Ma medicina, tu tra l'altro hai detto che ti eri appassionata già alle superiori un minimo, che cosa hai fatto alle superiori? Lo scientifico. Lo scientifico, ok, ok. E lo scientifico normale? Sì, quello normale, con il latino. Tornando sempre su medicina e sulla sua difficoltà, quali sono stati gli esami che ti sono costati un sacco di fatica? Vabbè, anatomia, quelle robe lì sì. Ma perché ti devi ricordare tantissime cose, cioè non c'è niente che oggettivamente sia difficile, perché ti dicono questa cosa si chiama così, questo si chiama così, però c'hai tremila cose da ricordare, quindi alla fine è difficile per quello, perché devi proprio avere un mindset, secondo me, che deve essere, devi dire basta, studio e ripeto fino alla nausea queste cose. E infatti quello è quello che poi un po' mi ha fatto impazzire, perché io mi sentivo una scimmia sostanzialmente. Quello che dovevo fare era ripeter, 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 leggere, ripetere. E per esempio vedevo, perché io stavo al collegio in Audi prima, e vedevo altri colleghi che comunque erano più grandi, che facevano medicina, e li vedevo che ripetevano in coppia tra di loro. Gli dicevano, no, ma io ho sempre studiato da sola, non mi sembra una cosa utile. Poi ho capito perché, perché cioè se no vai fuori di testa, ti metti a ripetere tu da solo, anzi io non ripetevo neanche, però leggevo, cercavo di ricordarmi e stavo impazzendo. E mettendosi in coppia, secondo me, gli studenti di medicina riescono a... Quindi la chiave per superare, è un appello questo in realtà a tutti voi, la chiave per superare gli esami di medicina e studiare insieme. Sì, secondo me sì. Non è un viaggio singolo. Per la sanità mentale. Un po' tipo Shining. Sì. La forza di stare da solo impazzisci. Sì. E proprio sulla solitudine, volevo chiederti, riuscivi a trovarti degli spazi quando facevi medicina, per uscire con i tuoi amici, oppure per approfondire dei rapporti con i colleghi? Sì, sì, quello sì, perché appunto stando in una residenza universitaria, cioè, vivevamo sempre in collettività, diciamo, ognuno aveva la sua stanza, il suo bagno, però la cucina per esempio era in comune, quindi lì ho fatto tantissime amicizie, stavo con un sacco di persone, poi uno aveva una festa, l'altro aveva un'altra cosa, quindi proprio è stato anche quello un po'... Cioè, sicuramente un lato positivo. Certo. uno shock, nel senso che passi da Cuno, dove comunque la mia realtà era la mia classe sostanzialmente. Sì, si conosceva, c'era anche qualcuno delle altre classi, però non erano questi megagruppi di amicizie in cui conosci un sacco di persone ogni giorno, erano sempre le stesse persone alla fine. E anche con i compagni di classe durante invece il percorso universitario ti sei trovata? Sì, con qualcuno sì, non esageratamente, però con proprio quelli che avevo nel mio corso. Ok. Loro facevano fatica quanto te, avete utilizzato poi la tecnica ripetere insieme? No, in realtà no. Sono rimasta in quel periodo ancora da sola, però la cosa che ho cambiato è che ripetevo ad alta voce. Ok. Camminando nella stanza. Una vera pazza, effettivamente. Esatto, minuscola, andavo avanti e indietro, mi ricordo c'era questo esame microbiologia, qualcosa del genere, dovevi sapere tutti i nomi dei batteri, dei virus, tipo la grandezza, erano tutti identici, cioè non cambiava niente in sostanza. E' effettivamente molto nozionistica come... Sì, tantissimo, ma sia per la sua natura, secondo me, sia per come i professori sono abituati. Un modo di insegnare, cioè, è veramente antiquato. Cioè, per esempio, Anatomia, veniva sto professore con zero voglia di vivere e iniziava a elencarti nomi di robe proiettando dei disegni anatomici, tipo dell'Ottocento. Bello! La classica cellula stampata in bianco e nero. Sì, sì, sì. No, ma... E poi una volta ci hanno fatto vedere al lavoratorio di anatomia un tavolo interattivo che tipo si chiamava forse Anatomage, una roba del genere, che era l'unica cosa figa perché c'era praticamente un cadavere... No, no, non vero, però... Una ricostruzione, diciamo. Diciamo, cioè, digitale. Ok. Dove tu potevi togliere gli strati e vedere cosa c'era sotto, quindi molto carino, però l'abbiamo visto tipo mezz'ora. Dopo quella mezz'ora basta. Basta, di nuovo, le slide della cellula in bianco e nero. Ma c'è stato un momento particolare in cui ti sei resa conto, magari durante un esame o durante un'esperienza in cui ti sei resa conto che basta, non lo faccio più questo. No, nel senso, non c'è stato un momento, proprio un'epifania in cui ho detto, no, basta, cioè, ho capito che non è così, no. Sono state goccia dopo goccia che a un certo punto, perché poi il periodo in cui ho cambiato in realtà non è stato drastico, anche lì, cioè, non so, è stato un casino, sostanza. E poi, per esempio, una cosa che secondo me doveva già farmi un po' pensare è che al secondo semestre c'era fisica, un esame che per chi fa il politecnico è una stupidaggine, per chi fa medicina, invece, è un esame che nessuno vorrebbe dare, no, perché non gliene frega niente, cioè, è una cosa che in effetti ha poco, cioè, è poco utile anche. Però c'è questo esame e a me piaceva e a tutti gli altri no. Aspetta, forse c'è qualcosa che non va. E niente, infatti, poi ho preso 30 e l'odio, ma senza neanche tanto sforzo. Complimenti. Ma perché, cioè, adesso se ci penso ora rispetto ad un esame di fisica al politecnico è una stupidaggine. Però per altre persone, invece, che erano abituate a un altro tipo di studio era difficile e nessuno lo voleva fare. Diciamo che penso un po' tutti quanti iniziano a sentire il peso di una scelta sbagliata, soprattutto se si prolunga per un po' di tempo. Volevo sapere se te hai mai sentito la pesantezza di star perdendo tempo nel mentre che non stavi facendo quello che uno ti piaceva a due che ti potesse interessare. Sì, sì. Cioè, assolutamente. È una cosa che appunto penso sia comune che ti senti sprecare assolutamente cioè il tuo tempo e poi il fatto di aver paura di perdere tempo me ne ha fatto perdere secondo me ancora di più. Avevo paura che appunto cambiare volessi dire perdere più tempo in realtà poi è stato il contrario. Tu forse hai una storia da raccontare in merito a questa cosa del cambiamento un po'. Sì, nel senso che penso che il cambiamento sia fondamentale per ogni singola persona e quindi anche adattarsi a delle soluzioni che non sono magari viste bene dagli altri come il fatto di dire e riconoscere i propri sbagli. Certo. Quindi dire ragazzi ho sbagliato non sono stato infallibile sia poi in realtà la chiave che ti possa portare a essere uno la migliore versione di te stesso. Poi adesso sembro un guru che parla e dice le cose tipo adesso ci vende il costo. Non comprate i costi da Davide. Però in realtà semplificato penso che una parte difficile è rendersi conto uno di aver fatto la scelta sbagliata e proprio dire ok sono sicuro di aver sbagliato e quindi io non so se poi te hai avuto non l'eureca del dire ho sbagliato ragazzi ma essere arrivata a quel punto tale di saturazione che poi dici effettivamente ma come ho fatto a non vederlo prima? Ti è arrivato anche a te questo punto? Nel senso allora la consapevolezza poi di aver veramente sbagliato mi è arrivata dopo cioè dopo aver iniziato ingegneria quindi molto dopo però sì a un certo punto quello che è successo che ho detto sono caduta così in basso cioè stavo così male dal punto di vista psicologico che il problema aveva distrutto sta cosa che allora lì ho detto no senti cioè peggio di così non può andare non c'è nient'altro e quindi a quel punto ho detto cioè ero arrivata il passo prima era stata la rassegnazione più totale ho detto boh la mia vita dovrà andare così sempre cioè triste sostanzialmente non posso farci niente e poi dopo invece ho detto no aspetta perché non posso farci niente perché gli altri mi dicono non puoi cambiare oppure ma perché vuoi cambiare se tu dici a qualcuno voglio fare medicina io non ho mai incontrato una persona che ti dica no non la fare cioè non lo so poi fai il medico e guadagni tanti soldi ti dico oppure soprattutto c'è anche il fatto di aver passato un esame che per nomea è qualcosa di assurdo anche quello che infatti secondo me è una cosa sbagliatissima del sistema nel senso che ci sta per carità a fare un test però gli danno troppa importanza e quindi lo rendono come una cosa sacro graal che nessuno cioè che comunque è una cosa che se la raggiungi wow sei figo sei fortissimo esatto sei un grande e dopo aver capito che non eri nel posto giusto arriva anche il momento in cui devi dirlo agli altri sì ecco questa cosa come è avvenuta ti sei prima iscritta senza dirla a nessuno e poi hai detto è troppo da ridere tipo dicono ah come va medicina no io ingegneria hai detto ingegneria ma no ma guarda che no 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 ingegneria sì sì no mai fatto medicina c'è gente che a distanza cioè mi sono incontrata con delle mie amiche che non vedevo da tempo e una ragazza mi fa scusa se te lo chiedo ma cosa stai facendo ingegneria o il politecnico perché si erano persi un attimo vabbè comunque allora vabbè ai miei l'avevo detto abbastanza subito soprattutto mia madre che comunque era quella che mi appoggiava di più mio padre un po' insomma e poi agli amici stretti a qualcuno del collegio l'avevo detto perché comunque avevo l'opportunità di chiedere anche altre persone solo che io mi vergognavo e quindi non è che lo dicevo proprio esplicitamente guarda io forse vorrei cambiare ah vabbè poi avevo incontrato il mio ragazzo e anche a lui gliel'ho detto e lui mi fa cioè all'inizio un po' tutti mi dicevano ma no perché devi cambiare all'inizio tutti dicono resta medicina no cioè se cambi poi ti penti poi cioè hai passato un test tutte queste cose di cui abbiamo già parlato e quindi quello sicuramente non mi ha aiutato poi per carità anche colpa mia che ascoltavo il parere degli altri però ero fatta così adesso sono un po' cambiata più o meno e quindi tutti dicevano non cambiare non cambiare non cambiare e quindi io lo dicevo ancora di meno alle persone e poi dopo il primo anno di medicina nell'estate già ero arrivata a un punto in cui ero un po' sclerata perché dicevo no voglio cambiare e rifaccio il test per il Politecnico lo faccio e lo passo però poi c'era il momento in cui avrei dovuto fare la rinuncia degli studi a medicina e iscrivermi al Politecnico però anche fare la rinuncia a medicina comunque era era il passo un attimo quello vero e proprio esatto quindi forse adesso non me lo ricordo neanche più forse mi sono iscritta al Politecnico e nel frattempo ero iscritta una cosa illegale ora mi arresto credo ora si può però non lo so perché quello è avvenuto un po' di anni fa quando non si poteva mi possono ancora arrestare non lo so nel dubbio vi linko il suo profilo Instagram noi ci discostiamo completamente abbiamo i dati abbiamo tutto abbiamo anche la sua firma sono fatti inventati no 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 appunto si vocifera si vocifera si vocifera una leggenda una leggenda ok spero abbiano buttato tipo tutti questi sì 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 e niente mi sono iscritta poi dopo mi sono disiscritta perché alla fine alla fine del primo anno non sono andata al Politecnico ah cioè mi sono iscritta ho passato il test e poi ho detto no 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 aspetta torno indietro ah ok meno male che non avevo fatto la rinuncia meno male non lo so comunque non avevo fatto la rinuncia un altro anno in cui mi sostanzialmente autoconvinco che medicina è bella e vado avanti poi secondo semestre c'era di nuovo un esame tipo statistica una cosa così che tutti odiavano ok e che io adoravo cioè adoravo era un parolone però in senso mi veniva facile mi piaceva e quindi di nuovo aspetta forse sbagliato e poi alla fine per farla breve alla fine di quell'estate lì cioè nel frattempo avevo fatto di nuovo il test siamo a tre test e poi decido no basta cambio e poi sono andata a fare la rinuncia a medicina quello è stato un attimo perché non so cioè fare la rinuncia è brutto non so dici poi tutti e poi gli dicevo ma scusate però voi non mi potete mantenere di voi in qualche modo nel senso un po' un voto di anatomia se me lo passate non so no perché esatto prima l'idea poi era faccio biomedica ingegneria biomedica a quel punto lì mi avrebbero tipo convalidato degli esami di anatomia perché c'erano qualcosina sì invece poi c'è successo di scrivermi a matematica ingegneria matematica e quindi niente è proprio tutto chiuso perché tra tutte le ingegnerie e quella matematica? ma allora perché già un po' quando avevo finito le superiori mi piaceva comunque la matematica e quindi era quello che mi mancava medicina l'aspetto un po' più formale più delle scienze dure insomma c'è un'affinità tra i due corsi cioè delle materie che magari ritornano dei metodi di studio che ritornano tra quali tra medicina e ingegneria proprio zero non c'entrano niente una con l'altra sono proprio due mondi opposti quindi abbiamo capito che effettivamente medicina e ingegneria sono due cose completamente diverse ti stai ritrovando in un ambiente nuovo perché anche a livello di materie e a livello anche di studio penso si gioca in maniera diversa e soprattutto stai iniziando tutto quanto da capo come ti stavi sentendo? è stato un po' tra l'altro ecco mi sono dimenticata quando tu dicevi come è stato il passaggio e fa ridere perché a un certo punto anche alla seconda volta che mi sono iscritta ero iscritta a due università per un certo periodo perché non ce la facevo andare a fare la rinuncia a medicina sembro pazza però si vocifera è sempre non è vero sì sì no quelle cose che così si dicono fare la rinuncia è il passo di non ritorno esatto e quindi c'è stato un periodo in cui andavo metà giornata da una parte metà giornata dall'altra e praticamente nessuno lo sapeva perché ovviamente mi vergognavo cioè neanche avesse ucciso qualcuno e in pratica addirittura dal collegio in audio io ero alla sezione Valentino che è tipo vicino al Valentino andavo fino al Politecnico a piedi perché non volevo incontrare nessuno che stesse andando al Politecnico in bus mamma mia ho dei problemi no vabbè in realtà è comprensibile adesso mi viene veramente da ridere però in quei momenti ero così disperata cioè non lo so non capivo più niente proprio la mente azzerata cioè zero quindi il primo periodo di ingegneria l'hai vissuto un po' così un po' così perché sì una lezione di qua una lezione di lanc non capivo più niente e quindi sì non me ne sono neanche tanto accorta in quel momento però comunque ingegneria io sto pensando anche alla pressione sociale che si ha e quando lasci una facoltà che di noè è prestigiosa e ti avvicini a ingegneria che comunque è prestigiosa quindi sentivi lo stesso questa pressione sociale sì sì perché medicina secondo me è proprio quella considerata dai più come non lo so una cosa oddio fa medicina sì esatto una cosa così però esatto la mia fortuna da una parte è stata che comunque ingegneria non è vista come una scienza di comunicazione voleva dirlo l'ha anche detto anche detto scienze stavo dicendo scienze delle merendine non stavo ah va bene va bene e quindi insomma quello era una cosa non mi immagino chi magari da medicina vuole andare per esempio a lettere che tutti dicono no no fare lettere c'è ancora peggio in quel caso lì però già nel mio caso che comunque erano due facoltà che socialmente sono ben viste cioè è stato cioè tutti mi dicevano cambiare e non fare scienze delle merendine vabbè penso non l'avessi detto quello proprio che cavolo sto dicendo basta questa è matta e non la diamo e non la diamo quindi gli ingegneri come sono rispetto ai compagni medici dipende io voglio un po' togliere lo stereotipo dell'ingegnere vai togli tutto precisino no cioè non è sì nel senso in parte sì in parte no ci sono quelli che sono che li vedi cioè li vedi da lontano non so come spiegare li vedi proprio precisi ma io li ammiro nel senso non sono così secondo me io però sono persone proprio precise in tutto non so come spiegarlo sono programmati sono programmati per non fallire hanno dei cicli if fatti in python non possono avere delle opzioni diverse e invece poi ci sono persone normali diciamo no anche gli altri sono appena finito di dire ma come ma Francesca nel senso più alla mano e rispetto ai medici quindi come rispetto ai medici la cosa che ho notato tanta differenza è che a medicina c'era molta competizione proprio per qualsiasi cosa gente che usciva no ho preso 30 no se prendi 28 già non sei tanto cioè cose così ma proprio bruttissime cosa ci fai qui dentro sì 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 no ma e poi ci sono tanti che magari hanno storie di di genitori nonni parenti lontanissimi tutti medici quindi si sentono non lo so e tu sei lì io non ho nessuno in famiglia che è medico quindi ti senti un po' perso a me non è piaciuto l'ambiente di medicina non lo so perché se sono io che appunto non piacendomi tanto quello che stavo facendo questo mi ha influenzato oppure no sì forse è un riflesso di quello che era il tuo stato d'animo in quel momento lì e parlando sempre di qualcosa di un po' più tecnico di esami difficili ne hai trovati anche al politecnico immagino quello più difficile per me è stato topologia che è un esame di topolino no no questo è proprio una battuta da bumerone e comunque è praticamente il primo esame proprio teorico di matematica che c'è al secondo perché il primo anno adesso forse è un po' diverso però l'ho fatto quello che era in comune per tutti tutti gli ingegneri facevano le stesse materie analisi 1 fisica informatica chimica quelle robe lì adesso forse è cambiato comunque invece al secondo anno c'era il primo esame proprio teorico di matematica pura questa topologia io sono arrivata lì e niente cioè non capivo non sapevo da che parte fossi gerato diciamo ma cosa sta facendo cioè c'è stato tipo un salto spazio temporale che mi ha capitato di zero sì sì ma qualcosa boh guardavo queste slide c'era gente quelli esatto di cui parlavo prima ok che seguivano anche il professore cioè capivano cosa stesse facendo e io ero lì i normodotati no diciamo no le persone normali no ok ok io ho avuto questo è proprio un esempio che forse verrà anche si un mato in montaggio un'esperienza mistica quando facevo il Politecnico analisi 1 quindi non è neanche così tanta roba stavano spiegando il teorema di Taylor ok famosissimo sì e c'era gente che stava mettendo mani nei capelli io stavo dormendo a un certo punto mi alzo e dico sto capendo e c'erano le formule che mi sono arrivati tipo io sei un wikiki in Transformer che legge capisce tutto cioè hai avuto questa epifania nel momento in cui ti sei svegliato hai compreso tutto il segreto dell'universo ma perché poi una cosa che non hai detto effettivamente che i corsi sono magari moduli da tre ore quindi anche da seguire sono belli tosti senza pause esatto io questa cosa non l'ho mai capito scientificamente ho provato che uno non può avere un'ora e mezza di concentrazione cioè già un'ora e mezza è tanto tre ore di seguito proprio diciamolo non capisci più niente mi sembra che dopo 25-30 minuti ti si abbassa come fanno a fare lezioni di un'ora e mezza ho bisogno del gameplay di Subbysurf forse a medicina erano due ore non mi ricordo tipo due ore di seguito che follia anche quello secondo me puoi dormire meno meno però tu immagina che per due ore devi seguire un professore che ti sta dando delle nozioni non ti dico a raffica perché magari poi si ferma su certi punti analizza delle cose però cioè quasi sempre comunque il professore durante le due ore non è che si ferma no esatto quindi però la pensa tre ore più agli altri moduli di tre ore magari anche dopo no ma poi una cosa assurda è il colpo di tecnico che mettono orari senza senso c'è gente che deve andare nove ore all'università ma non ha senso ma anche qua noi abbiamo una lezione dopo dalle 18 alle 20 quindi no però io dico nove ore di fila ah tu dici consecutive no no noi purtroppo più di due ore non facciamo il giorno scherzo neanche così tanto andiamo vabbè beati voi secondo me invidia quella di quelli che dicono scienze delle merendine eh però dipende perché non siamo più alle superiore ne parliamo alla fine va bene più che alla fine anche del prossimo episodio letteralmente volevo chiederti ancora una cosa quindi abbiamo preso la parte un po' più tecnica di quello che era magari il corso più difficile e abbiamo raccontato del tuo hai raccontato del tuo periodo dopo la disiscrizione di medicina c'è stato nel mentre che ormai il passo è fatto quindi ti sei hai rinunciato di studio a medicina in cui hai detto ok forse neanche questa è la mia strada cioè hai avuto qualche momento di tentennamento dopo il primo allora se devo dire tipo nel senso di tornare indietro mai proprio non ho mai cioè non c'è stato un giorno questa è una cosa che non pensavo perché appunto io ero straindecisa quindi ho detto non lo so se poi veramente magari tra tre mesi voglio tornare indietro non è mai successo di dire questa forse non è neanche questa la mia strada un po' sì però alla fine sono arrivata alla consapevolezza che no in realtà cioè voglio finire questo percorso e poi vediamo insomma cioè comunque sono convinta di farlo di finirlo questo è interessante perché comunque non era detto no e probabilmente se ti fossi trovata di nuovo nella situazione di dire caspita lì sarebbe stata forse ancora più tosta però se vuoi fare un appello alle persone che si trovano magari dove ti trovavi tu precedentemente allora io direi innanzitutto non ascoltare nessuno perché non serve a niente cioè la gente ma poi il 90% di persone che ti parlano non sanno di cosa stanno parlando non hanno mai frequentato l'università che frequenti tu magari non hanno mai fatto l'università comunque anche l'avessero fatta l'hanno fatta magari 20 anni fa che era tutto un altro mondo del lavoro cioè proprio non sanno di cosa stanno parlando ma anche magari i professori cioè in senso sei tu che devi decidere e purtroppo prima di farlo non lo sai bene cosa andrai a fare quindi provi e poi se però ti accorgi di aver sbagliato non preoccuparti perché comunque puoi cambiare e non è detto che cioè andrà tutto male come sta andando magari in questo momento io direi soprattutto non ascoltare nessuno neanche te via basta proprio vivere nell'incertezza più totale no no sì neanche me però nel senso almeno questo consiglio ascoltatelo poi il resto no io direi che l'episodio può finire qui no volevi dire qualcosa no 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 sei sicuro sì dai dilla lo dico dilla dico bene dilla dipende cosa devi fare no 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 Davide non dirlo non dirlo allora ringraziamo Francesca che è passata dai ciclis dai ciclis bravissima grazie che dire dobbiamo fare il momento sponsor tipo iscrivetevi a tiktok instagram allora lasciate un like iscrivetevi sul canale youtube ascoltaccici su spotify se non ci ascoltate né su youtube né su spotify andate a cagare iscrivetevi a instagram importantissimo l'abbiamo già detto nello scorso episodio ma è veramente importante perché lì potete rimanere aggiornati e scriver aspetta e scriverci per venire al podcast lei lei ad esempio ha fatto così ci ha scritto ciao